Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova rubrica di D2, io sono Daniele Reina per chi non mi conosce, uno dei due Daniele, allora io sono il pizzaiolo, visto che per ora siamo in quarantena non possiamo fare altro che dilettarci a casa per non perdere l'abitudine di lavorare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.